nuova serie in edizione limitata per la best seller citroen con la rack 3 edition caratterizzata da elementi che richiamano la versione vrc impegnata nel mondiale rally il marchio del double chevron personalizza in chiave sportiva c3 protagonista del mercato nella categoria delle vetture compatte lo stile esterno di citroen c3 race edition è qui sottolineato dalla tinta steel grey della carrozzeria abbinata al tetto onyx black dai cerchi cross black da 17 pollici e da dettagli rossi e bianchi che richiamano i colori della versione sportiva da rally all'interno armonia urban red ed equipaggiamento completo di sistemi avanzati di connettività e assistenza alla guida sotto il cofano il tre cilindri pure tech da 110 cavalli eletto nel 2019 per la quarta volta consecutiva engine of the year